Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, ecco oggi un nuovo video sull'abbinamento cibo-vino. Andiamo ad analizzare quattro famosissimi piatti tipici regionali italiani che possiamo di fatto incontrare durante i nostri viaggi e le nostre vacanze oppure che spesso possiamo anche realizzare a casa nostra perché comunque è di facile preparazione, senza grosse difficoltà. Ormai sappiamo quanto aumenta a tavola la nostra piacevolezza se scegliamo il vino giusto col piatto che stiamo preparando. Un tripudio di sapori, di gusti, a cui una volta provati non riusciamo più a rinunciare. Ed ecco quindi servite su un piatto d'argento le soluzioni più interessanti. E incominciamo a parlare di impepata di cozze, piadina alla romagnola, canederli allo spec in brodo e orecchiette alle cime di rap. Appunto quattro mete turistiche tra le più gettonate. Ma prima di iniziare voglio sempre ricordarvi di iscrivervi al canale. Per me gesto importantissimo per voi, semplicissimo e gratuito. È per me così importante che vi stimolo a farlo attraverso un regalo. Se vi iscrivete al canale e poi mi inviate una mail all'indirizzo info- sensimmovimento.it vi invierò gratuitamente il mio pdf, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Ho raccolto e tradotto diciamo così 190 vocaboli della sommellerie per poter essere capiti, interpretati e soprattutto usati nel migliore dei modi. Sempre con un calice di vino in mano, naturalmente. E chi non si iscrive è un Astemio. Aù, mi stavo a scordare. Ancora sei bottiglie, questa volta solo sei bottiglie di Solaria Ionica Vendemmia 1959. Il vino più emozionante che io abbia mai degustato in vita mia. Un vino oggi da fine pasto, un vino da meditazione, anzi da medicazione dell'anima. Ancora integro, una rarità assoluta. Per poterlo acquistare, scrivetemi sempre a info- sensimmovimento.it Allora, innanzitutto iniziamo con l'impepata di Cozze, uno degli antipasti più tipici e tradizionali della cucina partenopea. È di fatto diventato patrimonio gastronomico di tutte le località che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Questo piatto ha una tradizione, una storia antichissima, la cui leggenda risale addirittura al 1700 e pare che i suoi natali siano assolutamente nobili. A idearlo, secondo appunto la leggenda, pare sia stato Ferdinando I di Borbone, re di Napoli e del regno delle due Sicilie, naturalmente. Un antipasto facilissimo da preparare e altrettanto gustosissimo. La ricetta originale dell'impepata di Cozze di fatto prevede solo due ingredienti, le cozze e il pepe. C'è chi poi di fatto aggiunge il prezzemolo oppure i pomodorini e comunque una spremuta di limone. È per questo motivo un piatto certamente marcato dal punto di vista olfattivo e gustativo. Un sapore delicatamente sapido, dalla consistenza un pochino pastosa, ma abbastanza leggero. Vista la natura del piatto vanno quindi evitati vini alcolici strutturati, persistenti e anche tannici naturalmente. Mi vengono subito in mente come abbinamento delle bollicine profumate e di buon corpo che grazie al brioso perlage rendono i profumi di questo piatto ancora più evidenti e parallelamente alleggeriscono la consistenza appunto del mollusco. Mi viene per esempio subito in mente l'asprigno di Aversa nella sua versione spumante metodo classico brut, ma può andare benissimo anche un metodo classico rosè, un Franciacorta o un Trentodoc, che normalmente sono ottenuti da cuvée di Chardonnay e Pinot Nero. Tra i vini bianchi naturalmente ci sono molte possibilità territoriali, come possiamo bene immaginare. Ad esempio il Fiano di Avellino, un grande bianco campano che però va scelto in una versione non particolarmente strutturata, corposa. Il Fiano ha quella aromaticità tipicamente fruttata, anche un po' minerale, capace di esaltare la fragranza diciamo marina del piatto. Oppure naturalmente anche la Falanghina, grande equilibrio, grande eleganza, piacevoli profumi e una buona persistenza, non invasiva. Penso anche a vini rosati fermi questa volta, dove cercherò una spiccata morbidezza, rotondità e anche un pochino strutturati per poter sostenere la piccantezza del piatto, senza accentuarne lo spunto amaro e naturalmente senza nemmeno prevaricare il gusto tipico delle cozze. Mi viene in mente il Cerasuolo d'Abruzzo, ma anche un classico rosato salentino a base di negra amaro e malvasia nera per esempio, che con le sue note intensamente fruttate floreali, imprezzogisce ed esalta le qualità di questo piatto. Ovviamente ce ne sono moltissimi altri. Passiamo dunque alla piadina romagnola, detta amorevolmente e confidenzialmente la piada, un piatto anche questo di origini antichissime, ancora più antiche del precedente, addirittura si parla degli Etruschi, mentre è il sublime poeta romagnolo Giovanni Pascoli che ne dà il nome odierno, definitivo, moderno, cioè piadina, traducendolo dal dialettale pie. La piadina è famosissima anche a livello internazionale, fa una grande concorrenza la pizza, ma in realtà come è fatta? È ovviamente una domanda fondamentale per poter andare a pensare poi ad un vino da abbinare. Si tratta come tutti sappiamo di un pane piatto, senza lievitazione, composto principalmente da farina e strutto che ovviamente viene farcito con gli ingredienti più disparati, dalle verdure, ai salumi, ai formaggi freschi e addirittura alle cremi dolci tipo le marmellate e la nutella. Chiaramente è la farcitura della piadina a determinare l'abbinamento con il vino. Una piada per esempio farcita con verdure cotte, soprattutto se il condimento è piuttosto grasso, si sposerà perfettamente con un ottimo rosato o anche con un rosso leggero tipo il Sangiovese dei Colli di Rimini per rimanere in zona. Oppure con una farcitura con formaggi freschi, con salumi, tipicamente il crudo o il culatello, ad esempio la classica crudo squacquerone e rucola, io trovo perfette per esempio le bollicine di un metodo classico. Questo tipo di sfumante ricco di acidità consente di contrastare e soprattutto di sgrassare l'eccessiva grassezza, scusate il gioco di parole, contenuta nei salumi. Altro vino locale molto interessante è il Pignoletto frizzante, sempre dei Colli Riminesi ma anche Bolognesi, vitigno autottono perfetto con la piadina, ma se la piadina è dolce naturalmente il vino in abbinamento deve essere altrettanto. Mi viene in mente immediatamente il passito di Albana di Romagna, delicato, vellutato, mai stucchevole e sorprendentemente fresco e rinfrescante. Ma se invece ci spostiamo in Alto Adige o anche in Trentino, eccoci al cospetto di un piatto tipicissimo, i canederli allo speck in brodo, detti alla tedesca anche Knödel. L'origine è quasi sicuramente bavarese, ma si hanno già testimonianze della presenza dei canederli in Alto Adige nel 1200. È certamente un piatto povero, dei contadini, a base di pane raffermo, impastato con uova a cui vengono aggiunti prezzemolo e speck. La successiva cottura del canederlo, questo grosso gnocco, avviene normalmente nel brodo. In questa versione più classica abbiamo soprattutto all'inizio una tendenza morbida dovuta all'impasto, al pane e anche alle uova, ed una consistente speziatura e affumicatura dovuta allo speck, con una certa nota di aromaticità dovuta al prezzemolo. Ci vuole quindi un vino dalla spiccata acidità, dalla spiccata freschezza. Non c'è grande intensità, quindi non si necessita di un vino particolarmente strutturato e corposo. L'abbinamento perfetto è il Lagrein, rosato, o Kretzer alla tedesca. Giustamente acido, corpo snello, discreta persistenza. Insomma, il vino ideale, ma anche il Santa Magdalena o Sanct Magdalener, a base di Schiava, altro vitigno autoctono dell'Alto Adige, in tedesco Fernach, unisce le sue note aromatiche alla giusta freschezza e acidità per questo piatto. Vedo anche bene uno spumante, metodo classico brut, un bel Alto Adige Doc Rosé, per esempio, a base di Pinot Nero, oppure un vicino Trento Doc Rosé. E poi il nostro breve viaggio si conclude in Puglia, e precisamente a Bari, con le orecchiette alle cime di rapa. Origini incerte e contrastanti per questo piatto, ormai iconico in tutto il mondo, ma di per certo in dialetto barese si chiamano le Strachnacht, femminile, ovvero il movimento tipico che si deve svolgere, strascinare con il dito la pasta, per ottenere la classica forma tonda e concava. Questo piatto è composto da pochi ingredienti, ma decisamente intensi dal punto di vista gustativo. Le Strachnacht. Tra le caratteristiche gustative spiccano contrastanti la morbidezza della pasta e la nota amarognola proprio delle cime di rapa. Un'altra caratteristica saliente è la sapidità delle acciughe, che sono indispensabili nella ricetta originale. Per questo possiamo variare tra vini bianchi, vini rosati anche qui, e anche bollicine. Data appunto la tendenza amarognola molto insidiosa e la sapidità, il vino dovrà per forza avere una discreta morbidezza e struttura, per contrapposizione. Il primo vino che mi sovviene naturalmente è il classico rosato pugliese, che possa essere del Salento, ma anche del Brindisino o del Foggiano, per esempio con il Nero di Troia, come vitigno locale. O perché no, un bel rosato della provincia di Bari, magari a base di primitivo. Non dimentichiamoci un altro vitigno molto interessante, sempre nella versione rosata, che è il Sussumaniello. Questi vini al palato sono molto freschi, fragranti, ma anche appunto con una certa intensità necessaria. Uscendo dalla Puglia invece proverei un classico Chardonnay, morbido, intenso e soprattutto di buon corpo, per sorreggere l'intensità gustativa del piatto. Ma anche in questo caso naturalmente sono tanti comunque vini che potrebbero essere abbinati. Insomma amici sbevazzoni, come sempre tanti spunti? Provare alternative curiosi, talvolta sbarazzine. Perché, come sappiamo, il bello del mondo degli abbinamenti è anche tanta, 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 tanta sperimentazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.